Ciao a tutti ragazzi per ritrovare questo canale di Battle for Games, io sono Carlo e oggi ragazzi siamo tornati per fare un gameplay su PC Oggi ragazzi ci troviamo su Dirty Bomb, è un FPS strategico penso, perché sì dovrebbe essere un po' come Counter Strike, diciamo come strategia È un free to play ragazzi perché è ancora appunto una beta come potete vedere qua in basso a sinistra Quindi ragazzi io ce l'avevo, l'avevo aggiunta alla mia libreria di Steam ormai tempo tempo fa Quindi, e non ci avevo, diciamo, giocato due volte e poi l'avevo lasciato lì e perdere, boh non so perché Oggi boh me lo sono ritrovato lì e ho detto perché non farci una partita e perché non registrarle, perché non approfittarne per fare un gameplay Quindi oggi ci mettiamo qua a fare un bel quick join, find a match, vi dico che non gioco a un FPS praticamente dai tempi da mesi ormai Soprattutto su PC, beh anche su console non è che giocassi molto sinceramente agli FPS Quindi ragazzi oggi facciamo un bel quick match, non so cosa troverà una partita random proprio totalmente Sempre che trovi una partita perché qua il quick match sta durando forse un pochino troppo Per piacere puoi trovare una partita, ti prego io ti scongiuro L'ha trovata ragazzi, incredibile, abbiamo trovato la partita dopo più o meno un minuto e mezzo che la stavo cercando Quindi ragazzi oggi siamo qui Ok, siamo dentro la partita, io direi di fare un bel deploy E iniziamo, deployiamo fra 15 secondi Sta per partire la partita incredibile, 5 secondi E ora vedremo se le mie doti da giocatori di FPS esistono ancora, secondo me no Perché è veramente tantissimo tempo ma anche che non gioca Battlefield o Call of Duty Cioè è veramente un sacco di tempo che non ci gioco Quindi secondo me non ho più, sarò smirato in una maniera assurda Però adesso vedremo ragazzi, la mappa credo che sia Chappell o Cappell, Cappell, Cappell No, che cazzo sto dicendo Cappell Lasciate perdere, cioè Ok ragazzi inizia la partita, round start in 17 secondi Attenzione, non ho la minima idea di che modalità sia sinceramente Perché io veramente non ci gioco, non ci ho mai giocato praticamente questo gioco Quindi adesso lo scopriremo insieme, vediamo cosa dovremo fare Sembra che ci siano questi obiettivi Però io cercherò in questa partita non di giocare tanto per quello che è la partita Ma un po' per fare un po' di macello in giro per far secche delle persone Adesso vedremo comunque ragazzi durante il match cosa succederà Cerchiamo di giocare a modo però è un po' in una maniera Allora là vedo subito che sparano Cerchiamo di non farci seccare subito E cerchiamo almeno di far fuori un po' di persone Allora sto controllando ovunque che vi stare registrando Perché è già la seconda volta che provo a registrare un video Perché prima mi ero, mentre che stavo giocando Mi sono accorto di non aver iniziato la registrazione Quindi praticamente ragazzi io stavo parlando da solo con la telecamera Ma in teoria adesso dovrei registrare Quindi tecnicamente dovrebbe andare tutto bene Là ce n'è uno, se morisse mi farebbe un piacere Ma un proprio grosso piacere Allora là ce ne sono altri, mi sa che tra poco mi fanno secchi Ecco tipo quello, vedi Oh raga non muoio, non è però, gli sto facendo un botto di hitmarker Muori Oh non muori raga Non muori raga, ho gli ultimi 21 colpi Poi ho finito il caricatore Oh è morto, alleluia Quanti cavolo di hitmarker io ho fatto Cioè io ho già finito i colpi, ho 11 colpi E poi ho finito raga A caso così Cioè ho già finito il caricatore, non ci credo Eccolo E' uno, gli ultimi tre colpi Quindi io direi di tirare fuori il pistolino Eccolo Questo muore male Grande col pistolino Carlo c'è ancora ragazzi qui Occhio che rimane qua dietro, mi sa Occhio raga, occhio raga Che ci inculano da dietro Questi qua sotto C'è un'entrata qua? No, forse no Occhio Tipo questo qua sotto Aia no, aia, aia, aia L'ho visto, l'ho visto, è qua Anche occhi colpi nel pistolino sempre Vediamo qua sotto E' entrato Non so da dove si possono entrare Dove sono io Sto cercando di giocarmelo un po' eh Dio, buono Vecchio, non è che mi puoi dare Granata Scendi, scendi, scenditela Grande, copriti Ora Morirò male ragazzi Morirò malissimo Però Io ci provo Non capisco se Ci vuole un Un botto di colpi ragazzi Per uccidere una persona In questo gioco Com'è il No regalo Non conosco il corpo da colpo a corpo Credo di aver tirato una granata Ho finito i colpi anche nel pistolino Ragazzi Non ci credo Cioè Qui i colpi finiscono a caso Proprio totalmente Cioè Cioè io ho 35 colpi in canna Più 70 Praticamente ho 3 caricatori Cioè Quindi devo stare attentissimo Alle munizioni che uso Perché veramente sono pochissime Cioè io sono abituato ai battlefield Che si puoi spammare in giro In una maniera assurda Qua Minimo Minimi colpi Che Che spari a caso Veramente Cioè Ti uccide Cioè Non hai più niente Morto ragazzi Ok Cerchiamo di andare a farsi con questo Piano 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 Mi aspetta Eccoli Morto Doppia ragazzi Doppia Incredibile Ragazzi c'è Incredibile Non me l'aspettavo Questa partita No questa è una pianta Chiedo vegna Era un fail di quelli potenti Eccolo 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 Muori male Grande Questa si chiama Abilità skill Non è vero Cioè non è vero Non ho per niente abilità Ma Vabbè stavolta Mi sono un po' suicidato Diciamo così Però va bene Va bene Non mi lamento Devo dire Sto facendo una partita che Non mi sarei mai aspettato Sinceramente Ho già fatto 3-4 kill Vaccabuoi ragazzi È veramente Scusa Non so come sono morto Ma scusa Giuro che Non lo faccio più Ah un cecchino Ok allora ci sta Comunque ragazzi Veramente non me ne sarei mai aspettato Un inizio così Un inizio partita Fammi deployare Poi ragazzi Fatemi Ci saranno bene Qualche nerd Di sto gioco Mi potete consigliare Nei commenti Un po' come Come migliorare Perché io sinceramente Non so giocare Non so neanche come si faccia Sbloccare nuove armi Ho visto che ci sono tipo Dei Dei crediti Dei Dei coin Credo che servano A intuito Per sbloccare nuove armi A intuito proprio Da dietro Da dietro ragazzi Questo qua si chiama Colpo da dietro Colpo basso Incredibile Non è vero Vabbè Sto dicendo solo del mio Eccolo Mi ha visto anche lui però E' quello il problema Via 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 Old F Cos'è Cosa sto riparando ragazzi Occhio che qua Però mi fa in secco No 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 Non so cosa stessi facendo Scrivetemi anche nei commenti Cosa stessi facendo in quel momento Perché io non lo so Aiuto Copriti Copriti Cover Muoi muoi Eh avevo troppo poca vita ragazzi Avevo troppo poca vita Però devo dire che veramente Quanto sto facendo Non c'è scritto Non c'è scritto Beh però il ping è buono almeno Va bene Eeeh Non lo so È strano al stesso gioco Veramente fatto molto molto bene E un FPS Veramente è Coi contro proprio Coi contro Devo dire Eccoli Sono tutti qua eh Muori male Non muore Occhio qua Reloading E qua E qua E qua Oh col coltello Vai No 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 Sei una merda Vai via Vai via No Ricarica No no raga Non ricarica Oh ma ce la puoi fare Ricaricare Raga Oh Quanto cavolo C'è messo a ricaricare Non dovevo correre Io correvo Io correvo per scappare Da lui qua Ma quando ci ha messo a ricaricare Avevo finito Quei queste sfiga Cioè ho avuto Avevo finito sei colpi Nella pistola Che nel fucile Cioè Questo si chiama sfiga Però eh raga Lasciatemi un like Almeno per questa sfiga Perché cioè Io non ci voglio credere Eccoli Granata Mamma mia Mi sono salvato per Eh vabbè Se è buonanotte Qua non ce la potrei Ancora lui qua No no Deve morire Ecco no no Perché questo qua Se mi uccideva ancora Col coltellino di merda Aiuto questo qua Però mi sei Ecco Avevo troppo poca vita Ragazzi Però se mi uccideva Di nuovo Quello col coltellino Cioè no Non andava mica tanto bene Non andava mica tanto bene Quindi Siamo uno a uno Adesso vado a cercare Quello col coltellino Basta Alla ricerca Eccolo Eccolo Ecco è qua Guardate ragazzi Deployiamo vai Sponiamo No ho detto che sali sulla scala Alla ricerca di quello col coltellino È guerra aperta ormai Io ragazzi Come vi ho detto all'inizio partita Non sto cagando Praticamente L'obiettivo di questa partita Non so neanche che modalità sia Sinceramente Però vabbè Per questa partita va bene Quindi ranata Ricarica Che qua sbuca sempre gente No È alleato Grande Occhio Occhio qua ci sono Con calma ragazzi Con calma Giochiamocela Qua c'è un alleato È morto È morto ragazzi Assista Vabbè Va bene Oh ma questo Oh Regà Pensavo fosse Alleato Vi giuro Quando l'ho visto lì a sinistra Credevo fosse l'alleato È comparso Così proprio Dal nulla Mamma mia Mi ha fattuto Sono un pirla Proprio totale Ragazzi ma veramente Mi ha stimato male Sto giro Vai Poi devo smetterla Di dire ragazzi Ci dico troppe volte Ragazzi Cioè Sì vabbè Ma che cosa mi hanno ucciso Ogni tanto ci sono Queste esplosioni Random Ah ma questa qua Non credo sia la La visuale della morte Secondo me questa qua È un'immagine Presa a cazzo Della partita Non ti fanno vedere La killcam Credo eh Poi magari ho detto Una caspiata Di quelle enormi Via 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 Traversa Grande Alleato Occhio di qua Occhio di qua Occhio di qua Dove sono Regà Non li vedo Eccolo Oh c'è una torretta Ha messo giù la torretta Lì qua Proprio davanti a me Via 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 Facciamo che ce la fughiamo Pesantemente anche Due minuti e venti Alla fine della partita Ragazzi No di qua non c'è niente Ok Come vedete conosco molto bene Le mappe Ma sì proprio al 100% Posso aiutarti Eh ma Chiedo Giuro che Volevo aiutarti Però non l'ho fatto in tempo Mi sa Eccolo Muori male Oh la torretta Via 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 Mamma mia c'è ancora Mamma mia Fa un male bestia Fa un male bestia Quella torretta lì ragazzi Ma c'è a recupero vita Vero Spero Ben di sì Perché se no potrebbe essere Un grosso problema Ma proprio Grave problema Alla testa Morto ragazzi C'è come E due ragazzi Incredibile Le mie doti ci si sono ancora Più o meno Dai ragazzi Ci accontentiamo Perché questo si muove Che è morto Questo si muove Che è morto I cadaveri si muovono Ah Dio buono Se torrette Ma che palle Fanno male bestia Un minuto e venti Ragazzi Dai giochiamocela Questa fine partita Cerchiamo di stare attenti Con la torretta Che sono là Ecco Tipo quello potrebbe No no Ah Quello mi ha fruttuto Via 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 Traversiamo qua Era là sopra Eccolo Vieni fuori Dai stronzo Vieni fuori stronzo Grande Dai che ti secco Perché non viene Un altro po' fuori Dai Dai Non ha più il coraggio Di venire fuori Eccolo Non viene più fuori ragazzi Ho finito anche i colpi Gli ultimi 47 secondi Dai Eccolo Morto Io ragazzi A poco ho finito i colpi Ah Vabbè Qua mi sono un po' fatto Alla kamikaze Mi sono un attimino suicidato Ma giusto un po' eh Vabbè Ragazzi Ormai è andata così la partita Però mi sembra Sinceramente Cioè È bellissimo ragazzi Questo gioco Credo che inizierà A nerdarci In maniera pesante E poi Adesso ho anche riscoperto Le mie doti Da Giocatore di FP Non prendetemi sulla parola Ragazzi Sto scherzando Ovviamente Non faccio cagare No Chiedo venia Amico Via 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 È morto ragazzi Ultima kill Della partita Incredibile Credo che sia La mia ultima kill Basta Sono finiti gli avversari È finita la partita 3 secondi E quindi niente ragazzi Eccolo qui Ragazzi è finita la partita Non so se neanche se abbiamo vinto Vediamo se abbiamo vinto Se ci viene iscritto qualche parte Lost Perché noi siamo i perdenti ragazzi Quindi niente ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti Se volete altri gameplay di Dirty Bomb Se il video vi è piaciuto Lasciatemi un bel like Commentatemi qui sotto il video Mi raccomando Io vi saluto ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao